Stavo partendo per una gita. Monaco era piena di sole e nell'aria vibrava quell'esultanza tipica dei primi giorni dell'estate. La carrozza si era già avviata quando Herr Delbruck, il proprietario della locanda delle quattro stagioni dove avevo preso alloggio, a corse per augurarmi una buona passeggiata. Prima di togliere la mano dallo sportello si rivolse al cocchiere. Mi raccomando, fate ritorno prima di sera. Per ora il tempo è bello, però questo vento del nord potrebbe anche portarci un temporale. Ma certi consigli di prudenza sono superflui. Sai meglio di me che questa non è la notte più adatta per andarsene a spasso. pronunciò le ultime parole con un sorriso a fior di labbra. Ja, mein Herr, rispose Johann con aria d'intesa. Si toccò con due dita il cappello e lanciò i cavalli a briglia sciolta. Una volta usciti di città gli feci cenno di fermarsi. Con una certa impazienza chiesi, Johann come mai il padrone ha voluto metterci in guardia contro il buio? Si fece un segno di croce e rispose seccamente. Walpurgisnacht. Poi estrasse di tasca l'orologio, un vecchio orologio tedesco d'argento grosso come una rapa. Lo consultò aggrottando le sopracciglia e alzò le spalle notevolmente contrariato. Compresi che era un modo di protestare rispettosamente per quella inutile perdita di tempo e mi ributtai in fondo alla vettura. Si rimise subito in moto a forte come per voler recuperare il tempo perduto. Di tanto in tanto i cavalli sollevavano il muso fiutando l'aria, quasi fossero insospettiti da un odore che soltanto loro potevano percepire. E quando mi rendevo conto in quel modo della loro inquietudine, anch'io guardavo preoccupato il paesaggio circostante. La strada era spazzata dai venti e già da un po' stavamo inerpicandoci su una salita. Finalmente giungemmo a un alto piano e subito vidi un sentiero in apparenza poco frequentato che sembrava inoltrarsi in un'angusta ballata. Mi venne voglia di andare da quella parte e pur sapendo di irritarlo gridai nuovamente a Johan di fermarsi spiegandogli le mie intenzioni. Con mille scuse mi lasciò capire che era impossibile e mentre parlava si fece più volte il segno della croce. Incuriosito moltiplicai le mie domande. Fu sempre più evasivo e a ogni istante guardava all'orologio per farmi capire l'inopportunità della mia insistenza. Alla fine non mi trattenni più. Johan, esclamai, voglio andare da quella parte. Non ti obbligo ad accompagnarmici, mi piacerebbe solo sapere perché ti rifiuti di farlo. Per tutta risposta saltò giù dal sedile e una volta a terra giunse le mani supplicandomi di dimenticare quel sentiero. Inframezzava il suo tedesco con un numero sufficiente di parole inglesi perché potessi comprenderlo. Sembrava sempre sul punto di dire non so che cosa il cui solo pensiero bastava riempirlo di terrore ma al momento riusciva a dominarsi limitandosi a ripetere con gran segni di croce. Walpurgisnacht, Walpurgisnacht. Mi sarebbe piaciuto andare fino in fondo alla questione ma provate un po' a discutere con qualcuno di cui non capite la lingua. Conservò il suo vantaggio su di me perché anche quando si sforzava di usare quelle poche parole d'inglese che conosceva finiva sempre a causa dell'eccitazione per rimettersi a parlare tedesco. Poi ricominciava a guardare di continuo l'orologio per farmi capire quel che dovevo capire. I cavalli ormai, le narici frementi, cominciavano pure loro a impazientirsi. Il cocchiere se ne accorse e impallidì, guardandosi intorno spaventato. D'un tratto afferrò le briglie e trascinò le bestie qualche metro più in là. Lo seguì e gli chiesi che cosa lo avesse spinto a lasciare il luogo dove c'eravamo fermati. Si fece per l'ennesima volta il segno della croce, indicò col dito il posto in questione, portò la carrozza un po' più lontano e infine, mostrandomi una croce piantata lì nei pressi, mi disse prima in tedesco e poi in cattivo inglese. E' lì che è stato seppellito il suicida. Mi ricordai allora dell'antica usanza di seppellire i suicidi ai crocicchi. Davvero? Chiesi. Un suicida? Interessante. Questo però non mi aiutava a capire perché i cavalli si fossero impauriti. Mentre parlavamo ci giunse l'eco confusa di un ululato o di un latrato. Sembrava venire da lontano, ma i cavalli ne furono parecchio spaventati e Yoan dovette faticare per calmarli. Si voltò verso di me e disse con voce tremante. Sembrerebbe un lupo, eppure i lupi qui non ce ne sono. Ah no? E' da molto che i lupi non arrivavano nelle vicinanze della città? Da moltissimo tempo, specialmente in primavera e in estate, tutta al più se ne è visto qualcuno con la neve. Continuava ad accarezzare i cavalli per tentare di tranquillizzarli. In quel momento il sole venne nascosto da alcune grosse nuvole nere che in pochi istanti invasero il cielo. Quasi allo stesso tempo soffiò un vento gelido. Un soffio soltanto, quasi un preavviso, perché subito dopo tornò a brillare il sole. Yoan si mise a scrutare l'orizzonte facendosi schermo con la mano. Quindi sentenziò. Tormenta! L'avremo tra poco. Guardò ancora una volta l'orologio. Poi, stringendo sempre più saldamente le briglie perché il nervosismo dei cavalli gli faceva temere il peggio, rimontò sul sedile come se fosse proprio arrivato il momento di tornare indietro. Io però volevo saperne di più. Ma allora dove porta quel sentiero che non puoi imboccare? Dove si arriva di lì? Ancora un segno di croce, seguito da una preghiera farfugliata tra i denti. Poi la risposta, lapidaria. Puoi evito l'ingresso. L'ingresso a cosa? Ma al villaggio. Allora c'è un villaggio laggiù. No, no, non ci abita più nessuno da secoli. Ma non hai parlato di un villaggio? Una volta sì, ce n'era uno. E che ne è stato? Diede allora inizio a una complicatissima spiegazione in cui il tedesco si mischiava l'inglese in modo così confuso che era piuttosto arduo seguirlo. Comunque mi parve di capire che un tempo, centinaia e centinaia di anni prima, alcuni uomini di quel villaggio erano morti ed erano stati sepolti secondo tutte le regole. Dopo un certo periodo, però, si erano visti quegli uomini, tra loro c'erano pure alcune donne, vivi e vegeti, con del sangue che gli scorreva giù dalle labbra. Gli abitanti ebbero allora paura per la propria vita e ancora di più per la propria anima, come precisò Johan facendosi il segno della croce, e fuggirono verso altri luoghi dove i vivi vivessero normalmente e i morti fossero morti e non chissà cosa. Il cocchiere, evidentemente, era stato sul punto di pronunciare una certa parola, ma era riuscito a rimangiarsela in extremis. Mentre parlava, la sua eccitazione cresceva sempre di più. Sembrava sconvolto da ciò che lui stesso andava immaginando, e concluse il suo racconto in preda a una vera e propria crisi di terrore. Era più bianco di un cadavere, sudava a grosse gocce, tremava, si guardava intorno angosciato, come temendo di vedere qualche paurosa apparizione sull'altopiano illuminato dal sole. Le sue ultime parole suonarono come un lamento straziante e disperato. «Al purgisnacht», indicò la carrozza supplicandomi in silenzio di rimontare al mio posto. Sentì il mio sangue britannico montarmi alla testa. Arretrai di un passo o due e dissi al tedesco «Tu hai paura, Johan? Hai paura? Riprendi pure la strada per Monaco. Io mi arrangerò da solo per tornare. Una passeggiata a piedi non potrà farmi che bene». Lo sportello era rimasto aperto. Presi sul sedile il mio bastone da passeggio di castagno da cui in campagna non mi separavo mai. «Sì, sì, Johan, tornatene pure a Monaco», continuai. «Al purgisnacht non è una faccenda che riguarda gli inglesi». I cavalli erano talmente nervosi che Johan non ce la faceva più a trattenerli, eppure continuava a scongiurarmi di desistere dal mio proposito insensato, vedendo che se la prendeva così a cuore ebbi pena di lui. Tuttavia non riuscivo a trattenermi dal ridere. Lo spavento gli aveva fatto dimenticare che per farsi comprendere avrebbe dovuto parlare in inglese, invece continuava a biascicare il suo tedesco. Stava diventando noioso. Gli indicai la strada col dito teso, gridando «Mönich!», quindi gli voltai la schiena e mi diressi a valle. Lo vedi allora dirigere i cavalli sulla strada per Monaco con il volto della disperazione. Appoggiato al mio bastone seguivo la carrozza con lo sguardo. Si allontanava assai lentamente. In cima alla collina apparve allora la figura di un uomo alto e magro che riuscì a distinguere malgrado la lontananza. Man mano che si avvicinava ai cavalli questi prendevano a inarcare la schiena, a fremere, a nitrire di terrore. Johan non riusciva più a dominarli. Si imbizzarrirono e ben presto li persi di vista. Vogli guardare di nuovo lo sconosciuto, ma anche lui era scomparso. Mi incamminai per il sentiero che tanto spaventava Johan con la massima tranquillità. Credo di aver camminato almeno due ore buona e senza neppure accorgermi del tempo che passava e senza incontrare anima viva, e senza vedere l'ombra di una casa, neppure di lontano. Il luogo era completamente deserto. Me ne resi conto però soltanto quando, al termine di una curva, mi ritrovai sul limitare di un bosco piuttosto rado. Solo allora presi coscienza dell'impressione che quel paesaggio desolato aveva testato in me. Sedetti per riprendere fiato e mi misi ad osservare quello che mi circondava. Dopo un po' mi parve di sentire molto più freddo che all'inizio della mia passeggiata. Percepì inoltre uno strano suono. Era come un lungo sospiro inframmezzato a intervalli regolari da una specie di grugnito soffocato. Alzai lo sguardo e vidi passare nel cielo delle nuvole grevi di pioggia sospinte da nord verso sud. Di sicuro sarebbe scoppiato un temporale. Raprividii e pensai che ero rimasto seduto troppo a lungo. Ripresi quindi il mio cammino. Il paesaggio aveva davvero qualcosa di prodigioso. Non che ci fosse di quando in quando qualcosa di particolare che attirasse lo sguardo. Dovunque ci si soffermasse, tutto appariva come immerso in un incantesimo. Il pomeriggio moriva. Cadeva il crepuscolo quando cominciai a chiedermi per quale direzione avrei fatto ritorno a Monaco. La luce splendente del giorno si era spenta. Il freddo aumentava. Le nuvole si ammucchiavano minacciose nel cielo, accompagnate da un bubolio lontano, in mezzo al quale si levava di tanto in tanto quel misterioso ululato che il cocchiere aveva attribuito a un lupo. Ebbi un attimo di esitazione, ma ormai me l'ero detto. Dovevo vedere quel villaggio abbandonato. Seguitando a camminare giunsi poco dopo a un vasto altopiano circondato da colline dai fianchi boscosi. Il sentiero, serpeggiando, spariva dopo una curva dietro un assembramento di cespugli. Stavo ancora contemplando quel quadro quando all'improvviso soffiò un vento gelido e cominciò a nevicare. Pensai ai chilometri percorsi in quella campagna deserta e corsi a rifugiarmi sotto gli alberi che avevo di fronte. Il cielo si rabbugliava sempre più. I fiocchi di neve turbinavano sempre più rapidi e più fitti. E non ci volle molto perché la terra intorno a me divenisse un candido tappeto abbagliante di cui non vedevo più la fine, persa in una sorta di nebbia. Ripresi il cammino, ma la strada era pessima. Il suo tracciato si confondeva ora con i campi, ora con il sottobosco. La nebbia non facilitava le cose e ben presto mi resi conto che ero uscito di strada e che i miei piedi sotto la neve sprofondavano sempre più nell'erba in una specie di muschio. Il vento soffiava con violenza. Il freddo era pungente. Cominciavo a sentirmi a disagio nonostante fossi tutto concentrato nello sforzo di andare avanti. Il turbine del nevischio mi impediva di tenere gli occhi aperti. Ogni tanto un lampo squarciava le nubi e per un attimo distinguevo davanti a me alberi immensi, abeti e cipressi carichi di neve. Al riparo sotto le fronde, nel silenzio circostante, sentivo solo il vento sibilarmi sopra la testa. L'oscurità nata dalla bufera fu inghiottita dalla definitiva oscurità della notte. Quindi la tormenta parve allontanarsi. Per qualche tempo vi furono solo alcune raffiche di estrema violenza e a ogni raffica avevo come l'impressione che quel misterioso, quasi soprannaturale ululato del lupo si ripetesse in molteplici echi. Tra le enormi nuvole nere appariva ogni tanto un raggio di luna a rischiarare il paesaggio. Potei in tal modo rendermi conto di essere davvero giunto ai margini di un bosco di abeti e cipressi. Adesso la neve non cadeva più e abbandonai il mio riparo per guardare meglio. Pensavo che probabilmente avrei trovato in quei paraggi una casa, magari diroccata, ma che mi avrebbe offerto comunque un rifugio più stabile. Costeggiando il bosco mi accorsi che ne ero diviso da un muro, ma poco dopo ne trovai l'entrata. La foresta di cipressi in quel punto si dipartiva in due file parallele formando un viale che conduceva a una massa cubica, probabilmente un edificio. Ma avevo appena fatto in tempo a intravederlo che alcune nuvole nascosero la luna, costringendomi a risalire il viale nell'oscurità più completa. Camminando, rabbrividivo per il freddo, ma mi aspettavo un rifugio e la speranza guidava i miei passi. Avanzavo né più né meno come un cieco. Poi mi arrestai, stupito dal silenzio che era calato all'improvviso. La tormenta era cessata e, in sintonia con la calma della natura, anche il mio cuore aveva smesso di battere a precipizio. Ma durò appena un istante. La luna si fece di nuovo strada in mezzo alle nuvole e mi accorsi che ero in un cimitero e che l'edificio a forma di cubo in fondo al viale altro non era che una grande tomba di marmo, bianco come la neve che la ricopriva quasi per intero e che velava tutto il cimitero. Con il chiaro di luna mi giunse di nuovo quel bubolio tempestoso mischiato all'ululato sordo dei lupi o dei cani. Avevo paura. Sentivo il gelo trapassarmi da parte a parte, colpendomi così mi sembrava anche il cuore. La luna rischierava ancora alla tomba di marmo quando il temporale ritornò sui suoi passi. Come affascinato mi accostai al mausoleo che così stranamente si ergeva in quel punto solitario. Gli girai attorno e sulla porta in stile dorico lessi questa iscrizione in tedesco. Contessa Dollingen de Graz, Styria. Ella cercò e trovò la morte. 1801. Sulla tomba, piantato così sembrava nel marmo, il monumento funebre era composto da diversi blocchi, vi era un lungo piolo di ferro. Dalla parte opposta decifrai le seguenti parole incise in caratteri cirilici. I morti sono veloci. Tutto era così insolito e misterioso che fui quasi sul punto di svenire. Mi stavo pentendo di non aver voluto seguire il consiglio di Johan. Un'idea spaventosa mi balenò. Era la notte di Walpurga. Walpurgisnacht. Sì, la notte di Walpurga, nella quale milioni di persone credono che il demonio si manifesti in mezzo a noi, che i morti escano dalle loro tombe, che tutti gli spiriti malefici della terra, dell'aria e delle acque si abbandonino alla tregenda. E io mi trovavo proprio in quel luogo che il cocchiere aveva voluto evitare a ogni costo, in un villaggio abbandonato da secoli. Qui era stata sepolta la suicida e io ero davanti alla sua tomba, solo, impotente, tremante di freddo sotto un sudario di neve, mentre si approssimava la minaccia di un altro temporale. Dovete ricorrere a tutto il mio coraggio, a tutta la mia ragione, al credo religioso nel quale ero stato allevato per non soccombere al terrore. Poco dopo venni travolto dalla bufera. Il terreno sussultava come sotto gli zoccoli di centinaia di cavalli e questa volta non venne giù la neve, ma la grandine e con tale violenza che i chicchi strappavano le foghe e spezzavano i rami. In breve, nemmeno i cipressi poterono più offrirmi un riparo. Mi buttai sotto un altro albero, ma anche quel rifugio fu spazzato via poco dopo. Dovevo trovare qualcosa di più sicuro e notai allora che la porta del mausoleo di stile dorico comportava una nicchia piuttosto profonda. Là, appoggiato al bronzo massiccio, mi sentì un po' protetto da quella grandine fitta. I chicchi, infatti, mi venivano addosso solo di rimbalzo dopo essere caduti sul piale o sui blocchi di marmo. A un tratto, la porta cedette sotto il mio peso e si schiusa verso l'interno. Mi rallegrai per la fortuna di quel tetto insperato che il sepolcro mi offriva e feci per entrare. Proprio in quell'istante, un lampo forcuto rischiarò tutto il cielo. Immersi lo sguardo nel buio della tomba e, com'è vero che sono vivo, vi distesa su un giacilio una donna bellissima, dalle guance piene e le labbra vermiglie, che sembrava dormire. Vi fu uno scoppio di tuono e la mano di un gigante mi trascinò di nuovo fuori, sotto la tormenta. Fu tutto talmente rapido che prima di rendermi conto dello shock morale e fisico subito mi sentì di nuovo a bersaglio della grandine. Al tempo stesso avevo come l'impressione di non essere più solo. Guardai ancora verso la tomba. La porta era rimasta aperta. Un'altra fulgore accecante parve abbattersi sul piolo di ferro e farsi strada nel cuore della terra, riducendo in briciole quell'imponente mausoleo. La morta, come in preda a orribili tormenti, si rizzò per un attimo. Era avvolta dalle fiamme, ma il tuono soffocava le sue grida di dolore. Questo sinistro concerto fu l'ultima cosa che udì. La mano ciclopica mi riafferrò, trascinandomi ancora nella tempesta, mentre le colline circostanti si rimandavano l'una l'altra all'ululato del lupo. L'ultima immagine che mi sobbiene è quella di una bianca folla in movimento, delle strane forme fluttuanti, come se tutte le tombe si fossero spalancate per lasciare uscire gli spettri. Nel turbine della grandine li vedevo confusamente avvicinarsi, sempre più a me. Poco a poco tuttavia ripresi conoscenza, ma mi sentii invadere da una tale stanchezza da spaventarmene. Mi ci volle un bel po' per ricostruire quello che mi era successo. I piedi mi si erano intorpiditi, mi dolevano e non riuscivo a muoverli. La mia nuca era di ghiaccio, la colonna vertebrale e le orecchie erano anch'esse intorpidite e doloranti, ma sul cuore provavo un senso di calore davvero squisito, specie se paragonato a tutte le altre sensazioni. Era proprio un incubo, un incubo fisico, se così si può dire. Un peso indefinibile mi gravava sul petto, rendendomi difficile la respirazione. Rimasi un pezzo in questo stato semiletargico e non ne uscì che per sprofondare nel sonno, o forse si trattò di una specie di svenimento. Poi provai come una nausea, un bisogno insopprimibile di liberarmi di qualcosa, ma non sapevo cosa. Tutto intorno regnava un silenzio totale, come se il mondo intero dormisse o fosse morto da poco. Questo silenzio però era rotto di tanto in tanto dall'ansimare di qualche bestia, che non doveva essere affatto lontana da me. Sentì di nuovo qualcosa di caldo bruciarmi il petto, e fu in quel momento che compresi la spaventosa realtà. Una bestia enorme mi stava straiata addosso, il muso incollato alla mia gola. Non osavo fare un movimento, ben sapendo che solo una prudente immobilità poteva salvarmi, ma anche l'animale dovette comprendere che qualcosa era cambiato in me, perché sollevò il capo. Attraverso le ciglia, scorsi sopra di me gli occhi fiammeggianti di un lupo gigantesco, le zanne candide, lunghe e acuminate scintillavano nelle sue rosse fauci spalancate. Il suo alido caldo e acre mi penetrava nelle narici. Trascorse un altro lungo momento di cui non riesco a ricordare più nulla. Poi avvertì come un brontolio, una specie di latrato a intervalli regolari. Mi parve di sentire diverse voci assai lontane e gridare «Hola, hola» tutte insieme. Con cautela sollevai la testa per guardare, nella direzione da cui provenivano quelle grida, ma le tombe e le lapidi mi toglievano la visuale. Il lupo continuava a ululare bizzarramente. Un bagliore rossastro aureolò il bosco di cipressi e mi sembrò che si accordasse alle voci. Queste si facevano sempre più vicine, mentre il lupo ululava sempre più alto e più fitto. Temevo più che mai di lasciarmi sfuggire la minima vibrazione, il minimo sospiro. Anche il bagliore rossastro veniva avvicinandosi, lambendo il bianco sudario di neve che si stendeva tutto intorno. D'un tratto, da dietro gli alberi, sbucò un gruppo di cavalieri al trotto brandendo alcune torce. Il lupo abbandonò immediatamente il mio petto ed un balzo si dileguò nel cimitero. Vidi uno dei cavalieri. Si trattava di soldati, li riconoscevo dalla divisa militare. Impugnare una carabina e prendere la mira. Il suo compagno gli diede una gomitata e io sentì la pallottola sibilarmi a fil d'orecchio. Doveva aver scambiato il mio corpo per quello del lupo. Un altro soldato invece aveva scorto l'animale allontanarsi e si udì un secondo sparo. Poi tutti i cavalieri ripartirono al galoppo, alcuni verso di me, altri dietro al lupo, dileguandosi sotto i cipressi carichi di neve. Quando li sentii i vicini tentai di muovere le braccia e le gambe, ma mi era impossibile. Non avevo più forze, benché nulla mi sfuggisse di quel che si faceva o si diceva intorno a me. Due o tre soldati scesero di sella e mi si incinocchiarono accanto per esaminarmi. Uno mi sollevò il capo palpandomi il cuore. «Tutto bene, amici!» esclamò. «Il cuore bate ancora!» Mi versarono qualche goccia di cognac in gola. Ripresi del tutto i sensi e aprì gli occhi. Luci e ombre danzavano tra gli alberi mentre sentivo gli uomini interpellarsi l'un l'altro. Le loro grida esprimevano un grande spavento e poco dopo quelli che erano corsi dietro al lupo fecero ritorno come indemoniati. Gli altri li interrogarono con voce angosciata. «Dunque l'avete trovato?» «No, no!» fu la risposta concitata e si capiva che la paura non era affatto scomparsa. «Andiamocene al più presto di qui! Che idea intuciare in un posto del genere in una notte come questa!» «Che cosa era?» chiesero ancora gli altri, timorosi ognuno per qualche sua particolare emozione. Le risposte furono assai differenti e soprattutto impacciate, come se tutti avessero voluto dire in un primo tempo la stessa cosa, ma poi la medesima paura avesse loro impedito di rivelare in fondo in fondo ciò che pensavano. «Era... era... sì...» balbettò uno evidentemente ancora in stato di shock. «Un lupo, ma non un vero lupo!» aggiunse un altro rabbrividendo. «Non serve a nulla spararli a tosso se non si ha una pallotola penedetta!» fece notare un terzo, che si mostrava più padrone dei propri nervi. «Abbiamo proprio scelto bene la notte per uscire!» esclamò un quarto. «Davvero i nostri mille marchi ce li siamo guatagnati!» «C'era del sangue sui frammenti di marmo!» osservò un quinto. «E di certo non è stato il fulmine a provocarlo! E questo qui non sarà in pericolo per caso! Dategli un'occhiata al collo! Vedete, amici, il lupo li si è sdraiato ad osso tenendoli il sangue in caldo!» L'ufficiale si curvò su di me, poi dichiarò. «Niente di grave, la pelle non è stata nemmeno intaccata!» «Che vuol dire tutto questo? Non dimentichiamoci che senza gli ululati del lupo non l'avremmo mai trovato!» «Ma il lupo dove sarà fuggito?» chiese il soldato che mi sosteneva la nuca e che appariva il più controllato di tutti. «Sarà tornato nella sua tana?» rispose il suo compagno che aveva il viso livido e si guardava intorno tremando. «Non ci sono forse abbastanza tombe qui vicine o dove ha potuto trovare riparo?» «Amici, andiamocene presto, lasciamo questo posto dannato!» Il soldato mi aiutò a mettermi seduto mentre l'ufficiale impartiva degli ordini. Diversi uomini mi presero e mi sarono in sella. Allora l'ufficiale balzò dietro di me sul mio stesso cavallo, mi cinse la vita con un braccio e diede il via. Al galoppo, mantenendoci bene allineati secondo l'uso militare, ci lasciamo ben presto alle spalle i cipressi. Non avendo ritrovato ancora l'uso della parola, mi fu impossibile raccontare in quei momenti la mia incredibile avventura. Senza dubbio dovetti cadere addormentato perché ricordo soltanto di essermi ritrovato in piedi più tardi, sorretto da due soldati. Era l'alba e verso nord un lungo raggio di sole si specchiava nella neve, disegnando un sentiero di sangue. L'ufficiale stava raccontando ai suoi uomini di non far parola ad anima viva di quanto avevano visto. Dovevano dire soltanto di aver trovato un inglese, con un grosso cane che gli faceva la guardia. «Un cane! Ma non era mica un cane!» gridò il soldato che fin dal primo momento era perso il più impaurito. «Non sono proprio così stupido di non saper distinguere un cane da un lupo!» L'ufficiale ribatte freddamente. «Ho detto che era un cane!» «Sì, certo, proprio un cane!» ripetè l'altro in tono sarcastico. Evidentemente la luce del sole gli aveva ridato coraggio perché, segnandomi a dito, continuò «Ma guardateli un po' il collo! Non verrete mica a dirmi che un cane può fare una cosa simile!» Istintivamente portai una mano alla gola e subito urlai di dolore. Mi si fecero tutti intorno, alcuni rimasti in sella si sporgevano per vedere meglio, ma di nuovo, calmissima, si fece udire la voce dell'ufficiale. «Ho detto un cane! Se andassimo a raccontare altre cose ci faremmo prendere in giro!» Un soldato mi so di nuovo in sella e continuammo a cavalcare fino alla periferia di Monaco. Là mi fecero salire su una carrozza che mi riportò alla locanda delle quattro stagioni. L'ufficiale era rimasto con me. Uno dei suoi uomini si era preso l'incarico di custodire il suo cavallo mentre gli altri rientravano in caserma. Nel correrci incontro, Herr Delbruck rivelò con le sue premure l'ansia con cui aveva atteso il mio ritorno. Mi afferrò le mani e non le lasciò finché non mi trovai al sicuro nella sua locanda. L'ufficiale mi salutò e stava per andarsene quando lo pregai di venire con noi nella mia stanza. Gli feci servire del vino e gli espressi la mia riconoscenza per lui e per i suoi uomini che mi avevano salvato la vita. Mi rispose con semplicità che l'aver fatto qualcosa di utile era una gioia per lui che era stato Herr Delbruck a prendere le prime deposizioni necessarie e che tutto sommato le ricerche non erano state neppure troppo spiacevoli. A quell'ambigua dichiarazione il padrone della locanda ebbe un sorriso. L'ufficiale ci pregò di lasciarlo partire. Per lui era l'ora di rientrare in caserma. Herr Delbruck chiesi dopo che l'ufficiale si fu accomiatato. Come mai quei soldati sono venuti a cercarmi e perché? Alzò le spalle come se la questione non avesse molta importanza e rispose. Il comandante del reggimento di cui un tempo facevo parte mi ha permesso di fare appello a dei volontari ma come facevate a sapere che mi ero perduto? Il cocchiere è tornato qui con quello che rimaneva della sua carrozza. Era stata distrutta quasi completamente dai cavalli imbizzarriti. Ma non può essere soltanto per questo che avete mandato dei soldati a cercarmi. Oh no! Ecco guardate qui. Prima ancora che il cocchiere facesse il ritorno ho ricevuto un messaggio dal boiardo di cui sarete ospite. Estrasse di tasca un foglio. Me lo tese e lessi. Bistritz, abbiate cura del mio futuro ospite. La sua incolumità è per me preziosa. Se dovesse accadergli qualcosa di spiacevole, se dovesse sparire, fate tutto ciò che è in vostro potere per ritrovarlo e per salvargli la vita. È un inglese e quindi ama l'avventura. La neve, la notte, i lupi possono rappresentare per lui altrettanti pericoli. Se avete qualche preoccupazione per lui non perdete un solo istante o i mezzi per ricompensare il vostro zelo. Dracula. Stringevo in mano la lettera e avevo l'impressione che la stanza mi girasse intorno. Se il padrone della locanda non fosse stato lesto a sorreggermi, certo sarei caduto. Tutto era così strano, inverosimile e misterioso, che pian piano avevo sempre più la sensazione di trovarmi in balia di forze contrarie. La sola idea bastava paralizzarmi. Di certo dovevo trovarmi sotto la protezione di qualche potenza misteriosa. Proprio al momento giusto, un messaggio giunto da un paese lontano mi aveva difeso dal pericolo di soccombere alla neve e sottratto alle fauci del lupo. Grazie. 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 Grazie.